Gela richiesta di rinvio a giudizio per tre persone per violenza, lesioni e minacce aggravate, un 26enne anche per tentato e omicidio aggravato. Ma dobbiamo tornare indietro alla notte del 28 gennaio 2021. A Gela un'auto in movimento fu raggiunta da diversi colpi di pistola. Era una calibro 7,65. Esplosi da una finestra, i colpi raggiunsero di striscio uno dei passeggeri dell'auto, che fu raggiunta anche da proiettili sul lato anteriore, sul parabrezza e sul finestrino. L'agguato avvenne in pieno centro abitato e una delle due persone che si trovavano a bordo del mezzo fu colpita di striscio da uno dei proiettili esplosi dall'abitazione degli imputati. Tutto parte da una lite nata per motivi banali. Immediato l'intervento degli uomini della Polizia di Stato sul posto. Da lì partirono le indagini, poi condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza Locale, a seguito delle quali conclusasi nella fase preliminare la Procura della Repubblica del Tribunale di Gela ha richiesto il rinvio a giudizio dei tre uomini coinvolti a vario titolo per i diversi reati, tra cui quello di lesioni gravi a due agenti intervenuti sul posto nel corso dell'intervento della Polizia di Stato per evitare eventuali azioni ritorsive. Di queste condotte gli imputati dovranno rispondere in giudizio. La Procura della Repubblica ha inoltre chiesto il rinvio per tentato omicidio aggravato del 26enne di AF, attualmente detenuto per altri motivi, perché ha accusato di avere esploso più colpi d'arma da fuoco contro le parti offese dalla finestra della propria abitazione.